Vengono bullizzate tutte le persone che mi seguono. Benedetta Rossi, blogger e food influencers, è sfogata su TikTok contro chi la critica pesantemente. Io sono si social dal 2011 e non mi sono mai lamentata. Quello che mi fa arrabbiare è che sono presa come pretesto per insultare intere categorie di persone. Ha spiegato la scrittrice e conduttrice televisiva italiana in un video pubblicato sul suo account, fatto in casa da Benedetta, che propone ricette. Non sono una chef e non voglio insegnare niente a nessuno, ho aggiunto.